Magari un po' di integrazione con un po' di fiocato e allora tutte ste cose qua si mettono in fila indiana e vanno. Comunque lo vedi dal mantello che stanno bene, bello lucido, bello lucido, belle nonna. Perché ha queste mosche che portano. Te l'hai preso? Sì. Lui ha preso me, non ho io lui. Quella che sta al fresco, che partisce un po' di più il caldo, è la mamma della bella mucca che vi ho fatto vedere per prima. È la mamma. È una delle nostre capostipiti. Quanti anni ha? È 12 anni già. E lei ancora rende... Sì 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 sì. Fino a che età si riescono a mungere? Fino a che età dico? Fino a quanti anni? Allora, in teoria fino a 18 anni le puoi mungere. Poi siccome c'è un po' di degrado fisico, cioè l'animale è un po' più delicato, magari poi non le fecondiamo più, cioè rimangono così. Da quel punto le macellate? No, neanche. Allora, le muche vanno tutte al macello prima o poi. Perché se ti muore una mucca in stalla, anche di vecchiaia, è un disastro. In che senso? Allora, noi è successo che il vicino di casa che è morto c'è da anni, aveva una mucca di 18 anni.